21. Acqua, per favore, datemi dell'acqua. Josh aprì gli occhi. La voce di Darlene stava diventando più debole. Si sedette e strisciò fino al punto in cui aveva accatastato tutti i barattoli che aveva trovato. Ce n'erano ad ozzine, molti aperti e con perdite, ma il loro contenuto sembrava buono. Il loro ultimo pasto erano stati fagioli cotti mandati giù con succo di verdure vuoto e l'apertura dei barattoli era stata facilitata da un cacciavite che aveva trovato. Il terreno aveva anche restituito una pala con la lama rotta e un piccone, insieme ad altri frammenti e pezzi degli scaffali del negozio. Josh aveva portato tutto nell'angolo, organizzando gli attrezzi e i barattoli grandi e piccoli, con la concentrazione maniacale di un accumulatore compulsivo. Trovò il succo vuoto e strisciò da Darlene. Lo sforzo lo lasciò di nuovo sudato e stanco e l'odore della latrina che aveva scavato nell'angolo lontano del cementerrato non migliorava di certo l'aria. Allungò la mano nel buio e toccò il braccio di Suon. La bambina stava cullando la testa della madre. «Tieni», appoggiò il barattolo alle labbra di Darlene. Lei beve rumorosamente per un momento e poi lo spinse via. «Acqua», implorò. «Per favore dell'acqua!» «Mi dispiace, non ce n'è». «Merda», murmorò lei. «Sto bruciando!» Josh le appoggiò delicatamente una mano sulla fronte. Era come toccare una piastra, molto peggio della sua stessa febbre. Più in là, Popo stava ancora resistendo, blatterando a intermittenza di talpe, delle chiavi mancanti del suo furgone e di una donna chiamata Goldie. «Blakeman», gracchiò Darlene. «Dobbiamo, dobbiamo arrivare a Blakeman. Suon, tesoro, non preoccuparti, ci arriveremo». «Sì, mamma», rispose piano la bambina e Josh lo sentì nella sua voce. Suon sapeva che sua madre era vicina alla morte. «Non appena verranno a tirarci fuori da qui, ci metteremo in viaggio. Dio, posso già vedere la faccia di mio padre!» Rise e i suoi polmoni gorgogliarono. «I suoi occhi salteranno fuori dalla testa». «Sarà felice di vederci, vero?» chiese suon. «Certo che lo sarà, dannazione. Vorrei che venissero a tirarci fuori da qui. Quando arriveranno?» «Presto, mamma». Josh pensò che la bambina era invecchiata di dieci anni dall'esplosione. «Io ho fatto un sogno su Blakeman», disse Darlene. «Tu e io stavamo, stavamo camminando e potevo vedere la vecchia casa, proprio davanti a noi, dall'altro lato del campo. E il sole, il sole splendeva così luminosa. Era una giornata così bella e io ho guardato oltre il campo e ho visto mio padre sul portico e mi stava facendo un gesto per dirmi di avvicinarmi. lui non... non mi odiava più. E all'improvviso mia mamma esce di casa e si ferma sul portico accanto a lui. E si tenevano per mano e lei ha gridato «Darlene, Darlene, ti stiamo aspettando, bambina, vieni a casa ora!»» Restò in silenzio e si sentì solo il suono umido del suo respiro. «Noi... noi abbiamo iniziato ad attraversare il campo. Ma mamma ha detto «No, tesoro, solo tu, solo tu, non la bambina, solo tu». Ma io non volevo andare dall'altra parte senza il mio angelo. E avevo paura. E mamma ha detto «La bambina deve continuare. Deve continuare per molto, molto tempo». «Volevo attraversare quel campo». «Volevo... ma non ho potuto».» Trovò la mano di Swan. «Voglio andare a casa, tesoro». «Va tutto rovinato tutto».» Un singhiozzo restò nella gola di Darlene. «Ho rovinato tutto quello che ho toccato. Oddio! Chi si occuperà del mio angelo? Ho paura! Ho così tanta paura!» Iniziò a singhiozzare con voce rotta. E Swan le cullò la testa e sussurrò «Shh! Mamma! Sono qui! Sono proprio qui!» Josh si allontanò da loro. Trovò il suo angolo e vi si rannicchiò, tentando di fuggire. Non sapeva quanto tempo era passato, forse ore, quando sentì un rumore accanto a sé. Si mise a sedere. «Signore!» La voce di suon era debole e ferita. «Credo che mia mamma sia andata a casa!» A quel punto cedette e iniziò a piangere e a gemere contemporaneamente. Josh le mise intorno le braccia e lei si aggrappò al suo collo e pianse. Riusciva a sentire battere il cuore della bambina e desiderava urlare e infuriarsi e se avesse avuto a portata di mano quei pazzi orgogliosi che avevano premuto quei pulsanti, avrebbe potuto spezzare loro il collo come fossero fiammiferi. Pensare a quanti milioni di morti potevano esserci là fuori contorse la mente di Josh, come se stesse cercando di capire quanto fosse grande l'universo e quanti miliardi di stelle brillavano in cielo. Ma in quel momento c'era solo quella bambina che si inghiozzava tra le sue braccia e lei non avrebbe mai più potuto vedere il mondo nello stesso modo di prima. Indipendentemente da cosa fosse loro accaduto, lei sarebbe per sempre stata segnata da questo momento e Josh sapeva che lo sarebbe stato anche lui. Perché una cosa era sapere che potevano esserci milioni di morti senza volto, là fuori. Ma una cosa completamente diversa era sapere che una donna che respirava e che parlava e che si chiamava Darlene giaceva morta nella terra, a meno di tre metri di distanza. E lui avrebbe dovuto seppellirla nella stessa terra. Avrebbe dovuto usare il piccone e la pala rotta e scavare la tomba in ginocchio. Avrebbe dovuto seppellirla in profondità, in modo che non strisciassero su di lei al buio. Sentì le lacrime della bambina sulla sua spalla e quando alzò la mano per toccarle i capelli, le sue dita trovarono vesciche e resti di capelli bruciati. E in quel momento pregò Dio che se dovevano morire, la bambina morisse prima di lui, perché non restasse da sola con i morti. Suon pianse tutte le lacrime che aveva. Emise un ultimo piagnucolio e si lasciò andare mollemente contro la spalla di Josh. Suon, disse lui, voglio che resti seduta qui e che non ti muovi per un po'. Farai come ti dico. Suon non rispose. Poi alla fine annui. Josh la mise giù e prese il piccone e la pala. Aveva deciso di scavare la fossa quanto più lontano possibile dall'angolo in cui si trovava Suon e iniziò a rimuovere uno strato di stocchi di gran turco, vetri rotti e schegge di legno. La sua mano destra sfiorò qualcosa di metallico sepolto nella terra smossa e all'inizio pensò che si trattasse di un altro barattolo che poteva aggiungere agli altri. Ma questo era diverso. Era un cilindro sottile. Lo raccolse con entrambe le mani e vi fece scorrere sopra le dita. Non è un barattolo, si rese conto. Non è un barattolo. Mio Dio, oh Gesù. Era una torcia ed era abbastanza pesante per dedurre che all'interno c'erano le batterie. Trovò l'interruttore per accenderla con il pollice, ma non osò premerlo ancora, non prima di chiudere gli occhi e sussurrare. Ti prego, ti prego, fa che funzioni ancora, ti prego. Fece un respiro profondo e premette il piccolo interruttore. Non ci fu alcun cambiamento. Nessuna sensazione di luce contro le palpebre chiuse. Josh aprì gli occhi e vide il buio. La torcia era inutile. Per un secondo pensò che sarebbe scoppiato a ridere. Poi, però, la sua faccia si contorse di rabbia ed esclamò, all'inferno! Tirò indietro il braccio per fare la torcia a pezzi contro la parete e quando la torcia uscillò, un istante prima che la scagliasse, un debole raggio giallo uscì dalla lampadina. Ma Josh sembrò la luce più potente e meravigliosa di tutta la creazione. Quasi lo accecò. Poi tremolò e si spense di nuovo. La agitò furiosamente. La luce celava un gioco diabolico, accendendosi e spegnendosi ancora e ancora. Poi Josh inserì due dita attraverso la lente di plastica rotta fino alla piccola lampadina. Con cautela e con le dita tremanti girò delicatamente la lampadina in senso orario. E questa volta la luce rimase accesa. Una luce debole e torbida, sì, ma luce. Josh chinò la testa e pianse.